. Eri Divisie, turno ostico per le Big, in coda spicca Willem 2 Denag. Riparte l'Eri Divisie e con essa le Big, seriamente intenzionate a correre per acquisire quella sicurezza necessaria capace di conquistare il titolo d'Olanda. . A punteggio pieno e con la miglior difesa, non vuole fermarsi il Feyenoord, che in casa dell'Eraclay Salmelo cercherà di conquistare il quarto successo consecutivo, imponendosi come la squadra da battere dopo il titolo vinto la scorsa annata. . 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 I padroni di casa, dal canto loro, cercheranno altri punti vitali per la salvezza, allontanandosi il più possibile dalla delicata zona retrocessione. Più agevole, invece, il turno dell'Utrecht, in casa e contro un Roda ancora secco di punti. I gialloneri, costretti a conquistarne almeno uno, potrebbero giocare senza aver nulla da perdere, condizione contraria allobbligo successo dei padroni di casa. 90 minuti ha fatto Hardwick sulla carta, inoltre, per la Zaltmar, contro un Breda che non sembra poter mettere in difficoltà le peste di formaggio, sostenute anche dal proprio pubblico. Scendendo verso il centro classifica, sfida verità per il WWW Venlo, sorprendente neopromossa ancora secco di pareggi. In casa del Groningen, i gialloneri testeranno le loro capacità, inquadrando il prossimo futuro che potrebbe essere radioso o semplicemente pieno di nuvoloni grigi. I padroni di casa, al contrario, non possono fallire, continuando ad inseguire già da ora un posto in Europa. Dopo tre turni abbastanza deludenti, altra sfida ha fatto facile per lo Sparta Rotterdam, contro un Twente ugualmente inguaiato a causa di un inizio stentato ancora senza sorrisi. Una gara in cui potrebbe vincere la paura, ma che potrebbe anche regalare gol ed emozioni. Incrocio diretto tra fanalini di coda, infine, Willem 2 e Denag, chi perde resta sul fondo, evitando di rialzarsi. Sfide di giornata, 0-9-0-9. 18-30 Eraclès Feyenoord 0-9-0-9. 18-30 Willem 2 e Denag 0-9-0-9. 20-45 Ajax Wolle 0-9-0-9. . 20-45 Ajax Celsior Vitesse 1-0-9. 12-30 Erenven PSV 1-0-9. 14-30 Alkmaar Breda 1-0-9. 14-30 Sparta Rotterdam 20-0-9. 14-30 Utrecht Roda 1-0-9. . .